ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easyarp allora oggi rispondo a un'altra domanda ricorrente meglio puckering o ton blocking allora cercherò di essere un po sintetico perché questa domanda apre un ampio territorio di indagine comunque dal mio punto di vista la risposta corretta è dipende dipende sostanzialmente dal risultato che vogliamo ottenere e sicuramente il puckering ovvero l'imboccatura dove utilizziamo le labbra per centrare il foro singolo quindi andiamo lì e non stiamo utilizzando la lingua per centrare il foro allora ci dà un estrema pulizia nell'ottenere quando abbiamo imparato l'imboccatura correttamente nell'ottenere le note singole e quindi la lingua è libera di agire all'interno della cavità orale per insomma tutte le possibili alterazioni attraverso il bending eventualmente anche over bending quindi in questo modo possiamo anche essere molto agili anche in frasi ok quindi personalmente io preferisco l'imboccatura puckering quando devo avere un estrema pulizia e anche rapidità di movimento sui fori soprattutto quando sto utilizzando parecchio le note alterate dall'altra parte invece il ton blocking aggiunge qualcosa che il puckering da solo non ci riesce a dare ovvero sentite proprio che c'è qualcosa in più dato dal movimento della lingua che apre e chiude i fori che si trovano prima del foro che noi stiamo andando a centrare fondamentalmente col ton blocking noi prendiamo più fuori contemporaneamente indicativamente quattro e con la lingua apriamo chiudiamo i primi tre mentre lasciamo libero il foro normalmente il foro che sta destra tutte le volte che stappiamo beh si apre il suono quindi questa cosa può essere utilizzata in più modi o per creare un accompagnamento assieme alla melodia come se suonassimo degli accordi è una melodia contemporaneamente oppure proprio come effetto ritmico e sicuramente tutto questo aggiunge notevole corposità al suono giusto per dare un esempio di differenza di di esecuzione con le due tecniche se io suono diciamo un buggy in seconda posizione sto utilizzando un'armonica in tonalità di do e l'ho appena fatto in puckering quindi sentite proprio tutte le note precise se io faccio la stessa cosa in ton blocking chiaramente se io devo suonare qualcosa che suoni in questo modo non posso fare a meno del ton blocking quindi la scelta è veramente molto relativa dipende dal tipo di brano e anche di autore del brano se stiamo cercando di riprodurre uno standard sicuramente se ci avviciniamo a Big Walter Horton per citarne uno sentiamo che lui usa in modo intensivo il ton blocking quindi se vogliamo ottenere un risultato più simile possibile all'originale non potremo fare a meno di utilizzare il ton blocking diversamente magari stiamo studiando un brano di Jean-Jacques Milton molto tecnico e rapido nei passaggi molto probabilmente lui sta utilizzando un'imboccatura puckering e quindi sarà utile seguire insomma l'indicazione dell'originale quindi converrà molto probabilmente studiare lo stesso pezzo come l'originale cioè in puckering non che Jean-Jacques Milton non usi altre imbocature quindi dipende anche dagli stili dei vari stili dei vari armonicisti questo è chiaro a livello di suono il ton blocking ci dà sicuramente una corposità maggiore rispondo anche a un'altra domanda che spesso viene posta ma il bending può essere fatto anche in ton blocking sì e tra l'altro vi posso suonare anche il 2 aspirato in ton blocking chiaramente la lingua sarà un po' fuori bordo e fare il bending quindi dal mio punto di vista non è che una sia meglio dell'altra se stai iniziando questo è il consiglio che posso darti inizia dall'imboccatura puckering perché se parti proprio da zero devi imparare a ottenere il suono delle note singole a capire come suonano realmente i singoli fori quindi le note contenute nei singoli fori e poi dovrai imparare anche la tecnica del bending quando poi quando poi hai già raggiunto un buon livello allora puoi pensare di studiare anche questa imboccatura che io reputo un po' più avanzata perché ha gli elementi aggiuntivi e quindi scoprire anche le potenzialità molto molto utili interessanti del ton blocking e quindi ottave a quattro fori cinque fori eccetera eccetera ma mi permetto di ripetere non penso che una imboccatura sia migliore dell'altra ci porta ad ottenere risultati differenti tutti utili a completare la nostra musica bene spero che questo video ti sia utile magari a sciogliere qualche dubbio se così è stato magari lascia il tuo like se non sei iscritto al canale iscriviti sotto in descrizione trovi tutti i miei link ci vediamo alla prossima un saluto a tutti